L'ordine del giorno recca le audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge Camera 301 Meloni, 1979 Mandelli e 2.192 Morrone reccanti dispositivi allo svolgimento di attività professionali in favore ed elezioni di Maria Presidente di Commercio e di Anna Maria Fioroni, Presidente di Commercio e Professioni L'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo del 2020 Ricordo a questo proposito che è necessario che i deputati partecipanti da remoto risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgeranno il loro eventuale intervento il quale ovviamente dovrà essere udibile Avverto inoltre che in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web tv della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi Richiamo quindi l'attenzione delle nostre ospiti su tale forma di pubblicità che sarà disposta qualora da parte loro non vi siano obiezioni Mi pare che non ci sia nessuna obiezione per cui dispongo l'attivazione dell'impianto Pregherei le nostre ospiti di contenere il proprio intervento entro dieci minuti ciascuna per dar modo ai deputati di porre delle domande alle quali seguirà la replica delle stesse audite che qualora non l'abbiano già fatto potranno inviare alla segretaria delle commissioni un documento scritto La documentazione in assenza di obiezioni sarà pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e resa disponibile ai medesimi attraverso l'applicazione Geocom A questo punto do la parola a Marina Elvira Calderone Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali Di nuovo buongiorno dottoressa A lei la parola e la ringrazio per aver accolto il nostro invito Nel contempo pregherei la dottoressa Fioroni di silenziare il microfono perché anche se non sentiamo disturbi non vorrei mai che accada qualche imprevisto La ringrazio dottoressa Prego dottoressa Calderone Grazie Presidente Buongiorno a tutti Buongiorno anche alla dottoressa Fioroni e ai deputati che sono in collegamento Ringrazio per questa opportunità Io sono il Presidente del Comitato Unitario delle Professioni ma ho piacere di dire che in questa occasione per la prima volta il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche riunite in professioni italiane partecipano a questa audizione veramente congiuntamente Noi sardi diciamo Forza Paris avanti insieme Presidente quindi questo per noi è un elemento anche per poter dire che a questa audizione veramente assegniamo grande importanza e anche grande valore simbolico perché creare un nuovo soggetto come quello che abbiamo fatto nascere da questi due organismi e soprattutto parlare di ecocompenso dei professionisti credo che sia il miglior modo anche per iniziare un percorso Devo dire che quanto il tema dell'ecocompenso sia sentito nel mondo delle professioni è rappresentato dal fatto che oggi discutiamo e ragioniamo su tre proposte di legge la proposta Mandelli, Morrone e Meloni quindi le tre proposte che poi tra loro hanno dei punti di contatto e di convergenza importanti se mi posso permettere il mio ragionamento partirà proprio da questo dal fatto che le tre proposte insieme forse anche magari riunite organicamente in un unico testo hanno veramente la possibilità di andare a definire normare un percorso e il riconoscimento di un ecocompenso in senso ampio che poi quello che si aspettano i professionisti che noi rappresentiamo cioè il mondo delle professioni regolamentate e ordinistiche allora ecco che nel guardare le tre proposte di legge certamente noi guardiamo al complesso degli interventi ciò che è necessario a nostro avviso appunto è individuare un'esatta definizione di ecocompenso e su questo io credo che la proposta di legge Mandelli sia quella che comunque all'articolo 1 nelle definizioni e anche all'articolo 2 nell'ambito di applicazione poi ci dà una indicazione di quello che dal nostro punto di vista è il punto di osservazione più importante il fatto che il tema dell'ecocompenso non debba rimanere confinato all'interno di convenzioni che poi vengono stipulate tra i professionisti e i committenti forti quindi coloro i quali rappresentano delle grandi entità il nostro tema è che se di ecocompenso si deve parlare e soprattutto se si deve arrivare a una definizione più ampia dello stesso questo deve riguardare tutti i professionisti e contemporaneamente anche tutti i soggetti e tutti i committenti che entrano in contatto con i professionisti compresa la pubblica amministrazione compreso quel soggetto pubblica amministrazione che negli ultimi anni pur in presenza di un richiamo al fatto che anch'esso deve richiamarsi ai principi dell'ecocompenso sappiamo perfettamente che invece in taluni casi questo richiamo lo ha dimenticato e è andata a contrarre e a ipotizzare dei bandi in cui il compenso del professionista non era addirittura presente allora noi certamente ci rifacciamo a quelli che sono i valori costituzionali e l'indicazione della Costituzione nel dire che ovviamente tutti i cittadini hanno il diritto di trarre dal loro lavoro quei mezzi di sostentamento necessari a condurre una esistenza libera e dignitosa dice la nostra carta costituzionale e allora è questo il nostro approccio al tema per poi dire che Presidente ci sono sicuramente tanti punti di convergenza nelle tre proposte di legge laddove ovviamente poi non si deve noi non effettuiamo una scelta ma sottolineiamo quali sono i temi importanti da porre in discussione di un testo che poi possa diventare veramente il testo di riferimento sull'equo compenso e allora oltre all'ambito di applicazione è certamente individuare quali sono le clausole vessatorie e questo è un elemento che può aiutarci anche a eliminare quelli che sono dei contenziosi che poi potrebbero vanificare o depotenziare l'intervento normativo e allora sia l'articolo 2 che l'articolo 3 rispettivamente della proposta Morrone e poi della proposta Mandelli secondo noi sono sicuramente da tenere in estrema considerazione come bisogna ovviamente apprezzare il riferimento ai parametri ministeriali non più oggetto solo ed esclusivamente di trattazione e di utilizzo da parte del giudice ma appunto di riferimento per i professionisti e per i committenti nella definizione di un accordo che sia ovviamente rispettoso del principio dell'equo compenso ci piace certamente quello che è il ruolo assegnato ai consigli nazionali ci piace perché riteniamo che in esso sia chiaramente concretizzata e rappresentata quella formulazione di garanzia della fede pubblica che poi è esattamente l'elemento caratterizzante dell'opera dei consigli nazionali ma anche delle professioni nel senso più ampio e allora ecco che le disposizioni deontologiche previste nella proposta Meloni sono assolutamente da sottoscrivere così come i riferimenti alle azioni di classe che sono presenti invece nelle altre due proposte di legge certamente assegnare ai consigli nazionali anche il compito di delimere potenziali situazioni di conflitto e di controversia dando anche esecutività ed effettività ed efficacia al parede di congruità sui parametri è un elemento che va assolutamente sottolineato e che noi vorremmo vedere in un testo definitivo quanto poi credo che ecco il testo Meloni abbia Meloni in più ovviamente non cito il nome di tutti i parlamentari anche se li ringrazio per la sottoscrizione di queste proposte però ecco il tema della prescrizione e dell'azione di responsabilità è un elemento importantissimo perché laddove si mette per iscritto qual è il momento da cui decorre la prescrizione e le azioni di responsabilità io credo che sia un elemento di certezza, di calmierazione e soprattutto anche di giustizia nei confronti dei professionisti che rendono una prestazione un giorno e non ne possono certamente rispondere per tutta la vita la stessa cosa ecco poi sottolineo perché credo sia importante l'attenzione verso un osservatorio sull'ecocompenso noi siamo già impegnati nell'ambito del tavolo del lavoro autonomo ma riteniamo che andare invece a caratterizzare e quindi a specificare e rendere più specializzato un tavolo sull'andamento e le modalità di applicazione di una norma importante come quella dell'ecocompenso sia sicuramente da preferire voglio sottolineare un aspetto in chiusura ho iniziato dicendo che l'ecocompenso deve essere un concetto generale che viene applicato da tutti i professionisti e da tutti i committenti e soprattutto nell'ambito di tutte quelle che sono ovviamente le condizioni in cui questi soggetti decidono di incontrarsi e trovare un accordo dal nostro punto di vista deve essere una norma di carattere generale che riguarda tutti i professionisti ovviamente con riferimento a quelli che possono essere i parametri specifici applicati per le singole professioni e le norme ordinamentali ma non vediamo sicuramente utile separare i percorsi a seconda dell'appartenenza a questa o a quell'altra categoria professionale se è una norma di principio generale che poi deve andare a declinare dei percorsi specifici però nell'ambito di applicazione, nel campo di applicazione e nella definizione deve ricomprendere tutti quanti io mi fermo qui Presidente ovviamente a sua disposizione per qualsiasi altra necessità grazie dottoressa Calderone a questo punto do la parola alla dottoressa Fioroni prego dottoressa grazie, grazie Presidente grazie a tutta la Commissione che ci ha dato questa opportunità oggi saluto anch'io la dottoressa Calderone e mi fa piacere poter oggi in veste di Presidente di ConfCommercio Professioni partecipare all'audizione ConfCommercio Professioni è la federazione del lavoro autonomo professionale in ConfCommercio e rappresenta prevalentemente i professionisti a partita IVA lavoratori autonomi professionali iscritti alla gestione separata IMSS che fanno riferimento alla legge 4 del 2013 nella individuazione dell'attività professionale come esercitata dagli stessi io non posso che applaudere alla presentazione di questi disegni di legge e quindi ringrazio gli onorevoli proponenti perché si rimette in prima fila il tema dell'eco compenso e lo si fa con spero la convinzione di portarlo avanti anche all'attuale disciplina che è abbastanza frammentata, disomogenea e scarsamente applicabile però questi disegni di legge non si occupano di professioni non organizzate in ordine con le leggi, o almeno ce n'è solo uno che nella definizione dell'ambito di applicazione si rifà la legislazione vigente in particolare quanto introdotto nella legge di bilancio del 2018 che si richiama a sua volta il drop-up degli autonomi, ma sarò più ordinata per lasciar comprendere che cosa intendo. Innanzitutto l'attenzione del legislatore deve essere a nostro parere sempre di più indirizzata a queste nuove professioni, alle professioni non organizzate in ordine o collegi che si stanno affermando nel mercato di riferimento che cercano una loro riconoscibilità perché sono fondamentali per la competitività del paese, offrono prestazioni altamente qualificate nei settori dell'ICT, del design, della comunicazione, della consulenza manageriale e in tanti altri campi, ho portato solo alcuni esempi e questa riconoscibilità può essere offerta grazie al quadro della legge 4 2013. Sono professionisti iscritti alla gestione separata IPS, quindi non hanno casse, hanno una partita IVA, fanno questa scelta di autonomia in modo indipendente e vorrebbero un quadro di contesto che gli permetta di prestare la loro opera senza ostacoli, principalmente normativi. Quindi il tema dell'eco compenso si riconduce ad una questione più ampia che è quella di un sistema di protezione sociale avanzato anche per questi lavoratori autonomi. Ne stiamo parlando, lo diceva anche la dottoressa Calderone, al tavolo che si è costituito, la consulta dei lavori autonomi costituitasi all'interno del CNEL. Abbiamo proposto la misura dell'ISCRO come indennità straordinaria di continuità reddituale operativa per questi professionisti e il Parlamento ha ricevuto questa proposta anche in via sperimentale. Stiamo attendendo l'attuazione, ancora non ci sono i decreti attuativi, ma se non altro è una prima risposta che noi diciamo importante per il sistema di tutele, per il caso di contrazione di reddito che soprattutto in questa fase di pandemia sta soggiogando i nostri professionisti che devono affrontare forti cali di fatturato. Però il sistema di tutele, dicevamo, è stato introdotto dal job staff degli autonomi, dalla legge 81 del 2017, che ha introdotto anche un quadro di tutele nei rapporti contrattuali e il criterio della possibilità delle clausole che conferiscono poteri sperequati a favore del committente. In questa logica poi si è agganciata anche il decreto collegato alla legge di bilancio che ha introdotto per gli avvocati e poi esteso a tutti i professionisti come descritti anche dall'articolo 1 del job staff degli autonomi, quindi una logica omnicomprensiva senza distinzione tra ordini e professionisti non iscritti ad ordini, ha esteso le tutele, compresa quella dell'equocompenso. Quindi noi chiediamo che anche questi disegni di legge si rifacciano a questo criterio e che quindi se accorpati in un'unica proposta legislativa, tengano conto di questa categoria e le estendano la tutela anche al lavoro autonomo non organizzato in ordino con le leggi. Però c'è un problema di fondo che è quello legato alla definizione dei parametri. Perché? Perché la legge di riferimento come introdotta dalla legge di bilancio 2018 ha individuato come parametri cui si conforma la individuazione dell'equocompenso i decreti ministeriali per la liquidazione dei compensi in sede giudiziale, ma queste professioni non hanno decreti di riferimento, non hanno parametri di riferimento, o meglio non hanno decreti che individuano i parametri di riferimento. Perché? Perché sono nuove che si stanno affermando nel mercato, occorre trovare un modello adeguato anche per queste professioni. Allora la nostra proposta è quella di rifarci al lavoro del tavolo tecnico permanente istituito presso il Ministero del Lavoro, sempre dal Jobs Act dei Autonomhi, la legge 81 del 2017, per fare in modo che le associazioni come individuate dalla legge 4 del 2013 con un ruolo ben preciso nella valorizzazione delle competenze, nella promozione della formazione e della qualificazione professionale degli iscritti, nonché nella regolamentazione di un codice di condotta interno che è assolutamente volontario, quindi una rappresentanza volontaria non esclusiva che dà un ruolo però legato alla qualificazione a queste associazioni, ecco le associazioni possano partecipare al tavolo per individuare questi parametri cercando una strada che sia più condivisibile possibile e che dia la possibilità di offrire una risposta anche a questi professionisti. Tante di queste associazioni in via meramente orientativa individuano dei parametri di riferimento, per i loro iscritti, proprio perché nel determinare il compenso nei confronti del committente anche il professionista non sa come orientarsi. La seconda soluzione che possiamo proporre è quella legata a una sorta di ricognizione che dovrebbe fare il governo attraverso l'azione del Ministero dello Sviluppo Economico che è collegata alla rilevazione degli usi e delle consuetudini anche attraverso il sistema delle Camere di Commercio. Camere di Commercio che avevano questa funzione prima della riforma del 2016 avevano il ruolo di ricercamento e pubblicazione degli usi e delle consuetudini relative alle attività economiche e commerciali nella provincia di riferimento. Dovremmo recuperare questo ruolo, dare una funzione appunto al Ministero dello Sviluppo Economico in tal senso. E anche in questo caso si potrebbero sentire le associazioni di riferimento che hanno anche una dimensione territoriale proprio per poter interpretare al meglio le esigenze di queste professioni. Accanto a ciò e non mi dilungo ulteriormente, pongo un problema macro per queste professioni perché committenti forti noi intendiamo più che altro la pubblica amministrazione in questo momento. Cioè in questo momento la maggiore criticità è legata al fatto che negli incarichi affidamento diretto tramite gare pubbliche che ancora c'è una tendenza, un progressivo rilevante dimensionamento dei compensi anche per prestazioni altamente qualificate. Occorrerebbe invece introdurre criteri più forti anche nel codice dei contratti pubblici che rimandano al principio dell'eco compenso, che valutino qualità, merito e efficienza che dovrebbe essere proprio alla base della determinazione del compenso perché invece le gare sono costantemente al rilasso senza riferimenti economici parametranti, c'è spesso la richiesta di una presentazione di un'offerta tecnica progettuale anche in forma gratuita senza compensi e questo non è più tollerabile, lo dobbiamo dire, a tutela di tutti i professionisti che hanno a che fare con la pubblica amministrazione. Sottolineando che comunque la legge di bilancio 2018 ha introdotto il principio dell'eco compenso anche nei confronti della pubblica amministrazione. Recependolo però cercando di dare una risposta anche alle professioni non organizzate in ordine o collegi. Ma si richiamano criteri che devono avere solo natura transitoria, mancando criteri nazionali, perché ci si rifà le prestazioni omologhe o similari di professioni similari, capite che non è sostenibile una individuazione dei compensi che lascia queste incertezze agli stessi professionisti che devono avere certezze per operare nel mercato. E allora sarà importante per dare una risposta seria a questi professionisti individuare i criteri, quindi a livello nazionale in maniera univoca, e tener conto del fatto che poi bisognerà allo stesso tempo anche dare una dimensione territoriale all'individuazione di questi compensi, perché le professioni sono variegate, sono molto diffuse a livello territoriale, ma ancora non c'è una ricognizione esalta di quali e quante siano, perché non si iscrivono alle Camere di Commercio questi professionisti. Ora, chiudo con alcune osservazioni rispetto ai disegni di legge. Rispetto all'ambito di applicazione, forse l'ho detto all'inizio, ma lo ribadisco, solo il disegno di legge a prima firma di Onorevole Mantelli estende l'ambito di applicazione a tutti i professionisti. Il disegno di legge a prima firma morrone ci induce un dubbio interpretativo, che spero sia solo tale, nel momento in cui prevede che si applicano le prestazioni resi dai professionisti e disposizioni in materia di ecocompenso, prevedendo che i compensi siano ridotti della metà. Forse è una nostra cattiva interpretazione, ma ci auguriamo che l'intenzione non sia quella di ridurre la metà ai compensi nel caso in cui i rapporti siano con la pubblica amministrazione. Anzi, ci raccomandiamo che la pubblica amministrazione sia trattata come un contraente forte a tutti gli effetti e che si possa trovare un modello applicativo del principio dell'ecocompenso, così come introdotto, dalla legge di bilancio, che lascia anche problemi interpretativi circa l'ambito di estensione, che vadano individuati i parametri di riferimento. Ora io mi fermo, ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione della Commissione. Grazie dottoressa Fioroni, vediamo se c'è qualche collega che intende intervenire per porre dei quesiti. Mi pare che per il momento non ci sia nessuno, allora mi permetto io di sollecitare a entrambe una ulteriore riflessione in relazione proprio all'ultimo aspetto che ha toccato la dottoressa Fioroni e quindi in merito alla diminuzione dei compensi della metà prevista dall'articolo 3 della PDE, la prima firma Morrone, quando si tratta di prestazioni a favore della pubblica amministrazione e degli agenti di riscossione. Ora ho preso atto appunto della posizione, abbiamo tutti preso atto delle osservazioni della dottoressa Fioroni e su questo sarebbe completare l'audizione anche sentendo il parere della dottoressa Calderone. Io farei però un passaggio ulteriore chiedendo quale tipo di disciplina oppure quali criteri si potrebbero prevedere o ritengono le nostre audite opportune adottare in materia di ripetitività degli atti e degli incarichi. cioè nel momento in cui ci sono degli incarichi diciamo ripetitivi seriali che non comportano per ciascuno di essi particolare studio o impegno che tipo di disciplina potrebbero prevedere sotto il profilo dell'ecocompenso. Prego, se volete darci un ulteriore contributo ve ne saremo grati. Prego, dottoressa Calderone. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda l'articolo 3 della proposta di legge Morrone e più anche noi abbiamo, come dire, letto con, non dico con preoccupazione ma sicuramente con necessità di capire meglio quali sono le finalità di questo intervento perché come dicevo nel corso del mio intervento iniziale dal nostro punto di vista invece l'ecocompenso deve essere un elemento unificante e soprattutto deve avere dei principi unificanti che siano applicabili nello stesso modo alla generalità dei committenti e anche dei professionisti. Ecco perché quindi un articolato che prevede un tucur senza tener conto della complessità dell'opera prestata e delle differenze che poi ovviamente sono oggetto invece di contrattazione tra le parti che prevede un'applicazione di una riduzione del 50% per la pubblica amministrazione quindi con questa formulazione a noi certamente non sembra una condizione che sia accettabile quindi su questo veramente vorremmo anche avere un ulteriore conforto che invece non siano previste condizioni di questo tipo in un testo che dovesse avere poi una sua definitività. Per quanto riguarda invece l'aspetto legato alla ripetitività della prestazione quindi una prestazione seriale io richiamo a quelli che sono i principi della prestazione professionale seppur con caratteristiche simili per noi ogni pratica è una storia a sé stante poi nell'ambito dei parametri ministeriali quelli che sono già stati adottati per tutte le professioni ci sono degli elementi che consentono al professionista e al committente di individuare un compenso che tenga conto di tutta una serie di attività perché in ragione della complessità il parametro prevede la possibilità per il giudice in questo momento solo ed esclusivamente per il giudice di aumentare gli importi all'interno di una forcella che è in aumento o in diminuzione quella famosa forcella in aumento o in diminuzione serve per compensare quelle che possono essere delle diverse valutazioni in ordine alla complessità o alla ripetitività della prestazione che comunque è una ed è sempre una cioè nel senso che anche se sono dieci pratiche simili però non sono simili nel senso che io rendo la prestazione per dieci volte ecco questo credo che debba essere sottolineato Grazie dottoressa Calderone Dottoressa Fioroni Non posso che condividere quanto ha detto a dottoressa Calderone perché anche per le professioni non organizzate in ordine o collegi il tema della ripetitività implica comunque una prestazione qualificata è una prestazione prevalente contenuto intellettuale per cui è richiesta una formazione è un regresso di studi importante e diciamo che anche se ripetitiva la prestazione ha il suo valore quindi i parametri di riferimento devono essere individuati tenendo conto della prestazione in sé a prescindere dalla ripetitività Bene io a questo punto non posso fare altro che ringraziare le nostre ospiti per il contributo che hanno dato e quindi saluto la dottoressa Maria Elvira Calderone Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali e la dottoressa Anarita Fiorone Presidente di Commercio Professioni ringraziandole quindi per il contributo e per il tempo che hanno messo a disposizione della Commissione e dei commissari Chiudiamo la seduta di audizioni, vi ringrazio e arrivederci Grazie Grazie a voi